Questo lavoro è vittimamente di coordinare quello, guarda, uno, due in sostanza, lo facendo qua, quando io faccio questo, uno, due, uno, due, uno, due, e questo è lo spiegherato, questo è lo stesso, questo è lo stesso. Se io faccio questo, guardate, guardatevi di lato, se tenete di lato, se io faccio questo, guardatevi di lato, se tenete di lato, se io faccio muscolarmente senza questo, mi riesco? Non tantissimo, ma tenete un po' a passione, questo è possibile, da chi va? Allora faccio questo, attenzione, non faccio il tempo, non baciatevi, non baciatevi, non baciatevi, non baciatevi, non baciatevi, non baciatevi, questo è, questo è, questo è, però, però faccio un tempo, in realtà se ne ascoltatevi in prima fase, vi lascio, se ne lascio, è una storia, e lo stiamo lasciando, adesso, quando lo richiamo, adesso, guardatevi, quando tenete pure forte, se volete, guardatevi, neanchevi, neanchevi, aspettavi, ma guardatevi, ma guardatevi, vedete che non ribalza, non è che succede questo, ancora, questo, uno e poi, vi putto via, io sto sempre piantato, bam, 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 bam. Hai una potenza di ballone, piant слова per terra, fresibilità, quindi questo, ehi, e bam, mamma, non ho sbagliamenti a destra e sinistra di questo genere, solo che sbagliatevi, è quello che dovrete preparare, questa è la faccina, Quello che vedete fare è un'esplosione, è come pizzicare la corda, vai a risonanza.